Musica E' tornato come ogni anno l'appuntamento di fine estate casentinese, ossia l'antica battitura del grano a Bibiano, frazione del comune di Capolona. Domenica 20 agosto nel borgo casentinese hanno infatti rivissuto le tradizioni che caratterizzavano l'antica civiltà contadina del territorio aretino, in quello che negli anni è diventato ormai un appuntamento fisso per grandi e piccini. La battitura era il momento finale del raccolto del grano in cui si separavano i semi dalle spighe, ma rappresentava anche un momento di festa ed un'ottima occasione per stare insieme. Diciamo che sono una grossissima tradizione, sono piantato oggi da tutte queste feste paesale, quindi ci sarebbe tutti questi problemi di creare normative, di creare regolamenti. Qui i regolamenti la gente li si ritramandava per secoli e le battiture nell'aia erano la festa paesana. Tutti si tradunavano insieme, tutti si davano la mano e questa era la festa, la festa del grano che si rinnovava ogni anno e noi cerchiamo di offerterla questa tradizione. Grazie a tutti!